Permettimi di darti il benvenuto nell'Agenzia Detective Defunti. Aiutiamo i fantasmi a risolvere i loro misteri. Che non li lasciano andare. Detective Defunti? Forte, vero? Che nome del ca... Vorrei assumervi. Avete grande fama. Aiuto i fantasmi nei loro casi irrisolti. Fantasmi che risolvono casi irrisolti? No. Ma una sensitiva ci fa comodo e come? Lei non farà mai parte di questa agenzia. Lo sapete, è vero che io vi sento? Siamo bravi detective. Quando non ci nascondiamo da morte. Ha passato molti decenni all'inferno. Ma è successo di peggio. Scusa, devo portarti all'inferno. Questi due ragazzi... ...sono un gun a morte. Tu sei il mio migliore amico. Non vorrei avere un altro compagno di morte. Questo bel momento... ...si è fatto pesante. Eravamo di poco conto. E nessuno ha mai indagato. Io non tornerò all'inferno. Non lo so spiegare. Voglio solo essere utile. Dobbiamo intervenire. Anche se fa paura... ...rischiamo molto... ...e potremmo morire in modo orribile. Nico, sei stata bravissima. Grazie. Oh, lo sapevate? Gli zombie esistono. Grazie a tutti. Grazie a tutti.